Una lunga lista di no arriva dagli albergatori aretini che si sono riuniti presso la Coffcommercio di Arezzo e hanno raccolto in un documento unitario da presentare all'amministrazione comunale. No all'aumento della liquota IMU sugli alberghi, già penalizzati da una rivalutazione catastale che li costringe a pagare la tasa sugli immobili più alta d'Italia e che anzi potrebbe essere attutita da una diminuzione della liquota, oggi allo 0,87, fino allo 0,76 consentito per legge. No all'introduzione della tassa di soggiorno, soprattutto a stagione ormai avviata, visto poi che solo tre comuni su dieci la applicano in Toscana. Ma no anche all'introduzione della tariffa sui servizi indivisibili, Tasi, un duplicato inaccettabile, di tante altre imposte e tariffe. No all'applicazione della Tari sulle superfici degli alberghi che non producono rifiuti in maniera significativa, come olco, ridoie, piani e sali convegni. Infine un sì all'apertura di un tavolo di concertazione con gli operatori e le associazioni di categoria per varare finalmente un organismo di governance che dia al turismo retino un indirizzo preciso e strategie di marketing in grado di attuarlo. Su alcuni punti, come l'esenzione della Tasi o il blocco della liquota Imo, gli albergatori hanno già avuto nei giorni scorsi alcune rassicurazioni dallo stesso sindaco Fanfani, ma ora vogliono il nero su bianco su ogni punto per fermare quell'aumento dell'imposizione fiscale che a parere unanime in questo momento sarebbe una vera catastrofe. E la palla ora passa a Palazzo Cavallo. Grazie.